Benvenuti a questo nuovo episodio di MMA Talks Podcast. C'è chi, superata la soglia di 40 anni, ottiene forse l'ultima delle sue più importanti affermazioni a carriere nel mondo del Mixed Martial Arts, scorsa settimana a Fedor Emelianenko, e c'è chi invece, superata la stessa soglia di età, ottene la sua prima più importante affermazione all'interno del Mixed Martial Arts. Ci riferiamo per questa settimana a Glover Teixeira, uno dei più importanti protagonisti dell'ultimo evento numerato dell'ATP Fighting Championship UFC 267, andato in scena per l'appunto sabato scorso dalla Fight Island da Abu Dhabi. E' stato protagonista per l'appunto lui, ma non solo, sono stati anche tanti altri fighter di assoluto rilievo, si sono ammirate grandissime Mixed Martial Arts, e per l'appunto andremo ad analizzarle all'interno di questo episodio, episodio che servirà anche per fare l'anteprima della prossima card numerata, subito a stretto giro di posto, non c'è veramente tempo per prendere il fiato in questo finale di annata in UFC, visto che per l'appunto questo sabato nella nottata ci sarà l'ennesima card numerata sempre nella parte della UFC, UFC 268, che prenderà luogo a New York, al Madison Square Garden, e che presenterà nel main event la rivincita per il titolo welterweight tra il campione in carica Kamaru Usman e lo sfidante Colby Covington, oltre a tutta un'altra serie di importantissimi match che andremo appunto a presentare in questa puntata. Anche stavolta, veramente tanta tanta carne al fuoco, e a cucinarla per così dire. Con voi ci sarà da questa parte del microfono Stefano e dall'altra Giovanni. Benvenuto Giovanni. Ciao Stefano, ciao a tutti. Perfetto, come detto, entriamo subito nel vivo, UFC 267, capatina diciamo della UFC a Fight Island, ad Abu Dhabi, alla Etihad Arena, dove sono andati in scena due match titolati e incontri, rivelazione da parte di due attesissimi protagonisti come Islam Makachev e Kazmat Cimev, però per ordine ovviamente parliamo dal main event e dalla vittoria titolata di Glovec Tersera nella sfida che metteva in paglio il titolo light heavyweight della UFC detenuto da Yablakovic. Yablakovic appunto ha perso la cintura venendo sconfitto per sottomissione precisamente Ryan Naked Choke dopo tre minuti e due secondi nel secondo round da parte del brasiliano, che ha fatto la storia da un punto di vista prevalentemente anagrafico, visto che dopo diversi anni, per la precisione 2744 giorni dal suo precedente tentativo di assalto titolato, nell'aprile del 2014 a UFC 272 Tersera cercò per la prima volta di ottenere il titolo di categoria, ma fallì nel suo salto al campione di categoria dell'epoca, come potete immaginare, era Jon Jones. Ci è riuscito invece sabato scorso diventando il più vecchio campione per la prima volta nella storia della UFC, per l'appunto all'età di 42 anni e in assoluto il secondo campione di qualsiasi categoria nell'attimo effetto in championship più vecchio, dopo René Couture che diventò campione dei pesi massimi, che tornò a essere campione dei pesi massimi in passato all'età di 45 anni. Una vittoria frutto, per così dire, della maturità, del percorso di maturazione tecnica, ancora prima, ancora che, insomma, anche di determinazioni, di motivazioni in questo sport da parte del brasiliano, che ha comunque ottenuto questa vittoria non in maniera assolutamente casuale, anzi l'ha ottenuta fondamentalmente in una maniera pressoché dominante nel complesso di come si è sviluppata la contesa negli otto minuti, fondamentalmente nel primo round e in quel poco che poi si è disputato nel secondo, in particolare a essere decisiva da parte del brasiliano, è stata la sua capacità di essere assolutamente all'altezza del confronto nelle fasi in piedi, non facendosi, diciamo, spaventare da un Blackowitz che, insomma, lo ha messo lui stesso, ma è apparso anche abbastanza evidente nel vedere la prestazione messa in mostra dentro l'ottagono, è apparso un Polish Power che ha dimenticato, per l'appunto, come l'ha definito lui stesso, il suo potere, diciamo, la sua pericolosità all'interno della stanza d'albergo, passo veramente un Blackowitz piuttosto spento già nelle prime fasi di scambio, comunque di annusamento all'interno dell'ottagono, al centro dell'ottagono, per capire quale sarebbe stato il fighter che sarebbe riuscito a ottenere, diciamo, il sopravvento inizialmente nelle fasi iniziali dell'incontro, questo comunque ha permesso, insomma, le difficoltà nell'interno ritmo da parte di Blackowitz, hanno permesso a Texera di prendere rapidamente le misure del suo diretto avversario in piedi, e cercare abbastanza velocemente di portare la contesa a terra, dove per l'appunto, per buona parte del tempo si è sviluppato l'incontro, infatti sono stati 5 minuti e 17 secondi il tempo di controllo di Texera all'interno, appunto, degli 8 minuti scarsi di match che ha avuto contro Blackowitz, controllo al tappeto, o si intende, Texera è andato a segno con due takedown su sei tentativi e ha tentato complessivamente due prese di sottomissione, tra cui ovviamente c'è quella della vittoria da Rianne Kachok, arganciata, applicata, appunto, nel secondo round. La Rianne Kachok ha rappresentato per lo sconfitto Blackowitz la prima sconfitta per sottomissione addirittura dal novembre del 2007, non perdeva proprio questa modalità, praticamente, dai tempi del case d'abbio, quando appunto Andre Fiet riuscì a sconfiggerlo con una presa di sottomissione a Nakamura nel novembre del 2007, questa finalizzazione ha segnato, ha interrotto il regno di Polish Power e ha aperto per la prima volta, insomma, ha portato Texera a arrivare alla cima della montagna dopo una carriera veramente molto lunga, contraddistinta da un percorso così accidentato, così prolungato, si sono sprecati in queste ore i paragoni particolari con Michael Bisping e, in effetti, Giovanni, insomma, entrando un po' nello specifico della performance e nello specifico anche un po' di cosa va anche a significare un po' questa vittoria di Texera all'interno della Light Heavyweight Division, da un lato, ovviamente, in dubbio, da parte di Texera c'è il merito di, prima, diciamo, di questo incontro, di non aver mai mollato dopo quel famoso tentativo, quel lontano tentativo di assalto titolato, è passato attraverso alcune sconfitte anche piuttosto pesanti, l'ho ricordato anche tu in un articolo che hai pubblicato per l'ultimo uomo raccontando il percorso di Texera e, alla fine, insomma, è riuscito a, non solo a giocarsi nuovamente le sue fische per un match titolato, ma addirittura a ottenere, insomma, la massima posta in palio. C'è anche, però, da dire, volendo, che il fatto che ci sia riuscito e il fatto che il regno del suo avversario si sia interrotto praticamente quasi subito dice molto anche di un discorso che abbiamo fatto anche in sede di Anteprima di come un po' la categoria Light Heavyweight sia stata contraddistinta da un ricambio che sta avvenendo in parte, ma non si è ancora completato, diciamo, il ricambio generazionale. Sono rimasti molti dei veterani che hanno convissuto a lungo con la presenza pesante di Jon Jones e in parte anche quella di Daniel Cormier quando è stato lui re di categoria. Uscito di scena l'uno, ritiratosi praticamente l'altro, si è creato questo vuoto di potere, diciamo, che inizialmente è stato occupato da Blachowicz e adesso Giovanni sembra che sarà occupato, non so per quanto tempo, per quanto a lungo, da Glover Teixeira. Sì, la prestazione di Teixeira, Stefano, è stata assolutamente straordinaria. La comunità delle MMA si è stretta attorno a lui e non perché Blachowicz fosse un campione da non rispettare, anzi, alla stessa maniera il polacco è stato accolto quando appunto vinse il suo match titolato, quando difese la cintura contro la Desani. Semplicemente la categoria con il cambio di divisione o comunque il momentaneo stop di Jon Jones è diventata semplicemente più interessante da vedere perché non c'è un unico dominatore ma sembrano esserci tanti fighter su un livello simile praticamente. Quanto potrà durare il regno di Teixeira? Certo, se il primo contendente è già Iri Perociasca con un notevole vantaggio in termini d'età i dubbi cominciano a venire però la storia di Teixeira insegna molto insegna che un fighter del suo calibro una volta che riesce a rimettere insieme i pezzi a seguito di sconfitte devastanti può anche tornare in versioni migliori non debba per forza rompersi e possa tornare in condizioni migliori e questo è quello che ha fatto Teixeira è tornato in delle versioni migliorate di se stesso dopo le sconfitte nette contro Anthony Rumble Johnson e Alexander Gustafson e dopo il momentaneo sgambetto di Corey Anderson che lo batte ai punti per decisioni unanime e mise insieme cinque vittorie consecutive contro degli avversari di livello sempre superiore ottenne giustamente la title shot due giorni dopo il suo compleanno si è fatto questo regalo e a 42 anni è diventato il campione più anziano della storia moderna di UFC come avevi detto tu prima Quagiuro c'era riuscito a 45 anni era riuscito però nella divisione dei massimi erano anche tempi diversi c'era molta meno concorrenza una cosa che invece oggi è impensabile praticamente penso ogni tanto anche a Dominic Reyes che pareva un futuro campione di categoria ma dopo le devastazioni subite sia da Blacovic che anche poi da Iri Prociasca sembra ovvio quale sia il destino della divisione lo scontro è generazionale quello fra Teixeira e Prociasca e vedremo chi avrà ragione se la vecchia scuola o quella nuova il fatto sta che Teixeira è addirittura migliorato se possibile non sembra accusare l'incedere dell'età e anzi è tornato ad essere la macchina che sembrava prima di affrontare John Jones quando mise praticamente in fila una serie di 20 vittorie consecutive una roba del genere ecco l'appena citato tu Iri Prociasca sembra nell'ottica di evoluzione attuale nella categoria di peso lo sfidante disegnato è stato tra l'altro anche inquadrato nel pubblico durante appunto lo stesso evento UFC 267 quindi insomma sembra chiaramente questa la direzione da questo punto di vista ti chiedo appunto domanda relativa a questo punto in relazione al vincitore ovviamente Teixeira e anche un'altra domanda relativa a Blakovic Teixeira Prociasca ti senti sicuro che Prociasca possa essere l'uomo giusto per caratteristiche soprattutto per questa sua capacità di applicare una potenza assolutamente notevole per la categoria in maniera anche piuttosto brillante e estemporanea nel senso positivo del termine insomma in maniera sorprendente possa mandare KO fondamentalmente Teixeira o credi che Teixeira possa essere insomma abbastanza scafato per poter neutralizzare l'entusiasmo da giovani virgulto di questa categoria di Prociasca e eventualmente strappare una vittoria vuoi appunto come è riuscito con Blakovic oppure magari una vittoria per decisione e in relazione invece a Blakovic dopo una sconfitta del genere normalmente in diverse categorie di peso si direbbe in relazione anche all'età non più diciamo così verde da parte dello stesso Blakovic si direbbe beh insomma questo può essere stata la sua ultima chance o comunque potrebbe essere una delle sue ultime chance per questo tipo di competizione insomma per una cintura però lo insegna la storia stessa di Teixeira non si può dare davvero nessuno per finito soprattutto in questa categoria di peso dei light heavyweight quindi ti chiedo se secondo te Blakovic cosa deve magari aggiustare alla luce di quello che può essere stata una serata no per poter tornare almeno a giocarsi un'altra in futuro diciamo a medio termine medio lungo termine un'altra chance titolata per ottenere per riottenere quella cintura che prima di sabato era ancora sua ma Blakovic è sembrato a tratti irriconoscibile io dico rendo assolutamente merito alla prestazione eccezionale di Teixeira alla alle sue entrate da Berserker fondamentalmente alla sua capacità di incassare i primi colpi e di andare comunque sempre avanti di sottomettere Blakovic praticamente in una ripresa e mezzo però Blakovic non mi è sembrato nella sua forma migliore ecco per me in questo momento l'opzione più logica per lui sarebbe il rimace con Diego Santos per capire chi dei due può rimanere ad alti livelli secondo me è proprio l'opzione migliore per entrambi per Blakovic per superare l'ultimo vero fantasma della sua carriera prima di diventare campione e poi eventualmente ritentare l'assalto se appunto il tempo glielo concederà se la carriera glielo concederà mentre per Teixeira è ovvio sì che vedo Prociasca come prossimo contendente e sì Prociasca ha la capacità col colpo secco secondo me di mandare capo Teixeira bisogna vedere Teixeira dai match appunto prima contro Rumble ma poco dopo contro Gustafsson che è stato ancora più emblematico perché è stata una demolizione più lenta quella di Gustafsson rispetto a quella di Johnson che fu con il colpo secco dobbiamo capire Teixeira come ha praticamente lavorato per fare degli aggiustamenti nel suo nel suo stile se mi devo rifare i cinque match ai sei match che ha vinto a seguito appunto di quel match lì del match di Corey Anderson mi viene da dire che riesce a mescolare meglio sia la fase di stand up che la fase di takedown riesce a capire ancora più intelligentemente quando cambiare livello e siccome è un fighter incredibilmente completo può fare affidamento su entrambe le fasi e su tutte le sue abilità in entrambe le fasi quindi ecco non è così semplice non è semplicissimo bisogna vedere se Prociasca avrà le capacità di comprendere i cambi di livello di Teixeira e comunque di gestirlo in quel senso se Teixeira riesce a certificare un atterramento e a lavorare bene col peso come sa fare lui può anche ottenere il match e sì sarà veramente una sfida molto interessante da vedere adesso pronto probabilmente per tempistiche e tutto visto che siamo praticamente alla fine del 2021 non se ne parlerà probabilmente per la prima parte in primi 3-4 mesi del 2022 secondo un po' di come saranno le condizioni di entrambi però nel caso sicuramente in prospettiva sarà interessante capire se Teixeira riuscirà a fare fondamentalmente meglio di Black Ovis riuscirà a ottenere un regno un pochino più lungo in una categoria di peso in cui bastano poche vittorie di fila diciamo per ottenere prima o poi una chance e i regni possono durare anche molto meno di quello che sono durati in passato nella storia di questa divisione di peso e vedremo appunto se Teixeira durerà un pochino più a lungo come re di categorie intanto però ci penserà in futuro però adesso meritoriamente può continuare a festeggiare il coronamento di una lunghissima carriera ricca di soddisfazioni o anche di punti bassi che però diciamo è stata coronata sabato scorso con il punto più alto possibile per un competitor a questi livelli in generale insomma nel mondo del Mixed Martial Arts appunto con la vittoria del titolo di categoria in UFC ha vinto ha rivinto un titolo di categoria non quello che possedeva poco tempo fa ma la versione interim Piotr Jan vittorioso nel common event a Bantawait appunto per la cintura interim Bantawait della UFC sconfiggendo Corey Sandagen col verdetto di decisione unanime cartellini di 49-46 49-46 49-46 Jan è diventato piccola curiosità statistica il secondo fighter nella storia della UFC a vincere il titolo Bantawait sia nella sua versione undisputed sia la versione interim l'altro fighter fu Renan Barrao da un punto di vista statistico e qui entriamo nello specifico dell'analisi dell'incontro Jan con una grande collaborazione di Sandagen in particolare molto vivace e fondamentalmente vittorioso in base anche ai cartellini dei giudici nel primo round hanno combinato assieme un totale di 318 significant strike andate a segno 700 complessivi entrambi nuovi record per un incontro a 135 libere con la differenza però che Sandagen ha tentato 445 colpi significativi mentre Jan ne ha tentati solo 270 il che appunto significa che seppur Sandagen insomma sia andato più a segno in termini complessivi di colpi significativi Jan è stato sicuramente il fighter più preciso però sotto questo punto di vista andando a bersaglio per appunto il 55% dei colpi significativi tentati rispetto ai 37% fatto registrare da Corey Sandagen e questi dati ci danno già una certa dimensione di cosa ha permesso appunto a Jan di ottenere la vittoria non dico del tutto dominante di per sé però comunque meritata nel suo complesso e direi abbastanza discutibile nel corso dell'incontro ma non è stato solo questo Giovanni a dimostrare la superiorità non solo nei confronti dello stesso Sandagen ma direi quasi di buona parte della competizione a Bantaweight e forse anche tenendo conto anche di altri fighter di altri campioni in altre categorie ha contribuito anche la capacità di Jan di non sicuramente una novità per chi lo ha seguito o anche in passato però colpisce la capacità di Jan fondamentalmente dopo quel poco tempo che si può prendere magari appunto può essere un round può essere due per non necessariamente subire le iniziative dell'avversario però prendersi un po' il tempo per leggere le intenzioni dell'avversario capire quali possono essere insomma il tipo di performance il tipo di forma che può avere il suo diretto avversario all'interno dell'ottagolo appena appunto ha queste informazioni riesce sempre a rielaborare e a riutilizzare tale informazione in maniera immediata efficace mostrandosi il fighter più preciso e più potente negli scambi avuti nelle fasi di striking con una estrema varietà di colpi portati a segno combinazioni sinistro-destro adesso-sinistro e ovviamente anche in molti calci in particolare i calci al corpo il lavoro al corpo che porta anche con diverse combinazioni anche con montanti al corpo insomma veramente un arsenale di striking veramente molto vario da parte del russo ma il russo offre anche molto altro insomma sapevamo della sua abilità nel difendersi molto bene nell'interpretare al meglio le fasi di clinch riuscendo sempre a piazzare un colpo in uscita che può magari nell'immediato può essere magari un colpo non particolarmente impressionante ma si accumula diciamo a tutti gli altri e sicuramente lascia il segno comunque sono colpi puliti che non possono che impressionare i giudici come non può assolutamente non impressionare i giudici il fatto che Jan sia praticamente un fighter veramente molto molto difficile da mettere giù Sandhagen ci ha provato veramente tante volte ma fondamentalmente è stato sempre rispinto al mittente in tutti i suoi diversi cambi di livello quindi insomma Giovanni è stata sicuramente una contesa nel suo complesso molto godibile probabilmente un candidato forse allontana come match dell'anno ma la particolarità di questo incontro è stata forse il fatto che è stata più una esibizione di quanto Piotr Jan sia uno dei fighter di MMA a prescindere dalla categoria di peso più completi e preparati che ci siano nel panorama dell'MMA il che insomma a dirlo sembra una roba molto semplice ma farla è una cosa molto molto complicata e in qualche maniera Jan mostrandosi sempre un passo avanti sempre una lettura delle situazioni più avanti rispetto al suo avversario ha dimostrato di poterlo fare sul campo e l'ha dimostrato anche agli UFC 267 beh vedi a me dà sempre l'impressione Jan che voglia far sfogare nel primo round il proprio avversario far uscire alla larga il ritmo dell'avversario per poi pareggiarlo e superarlo immediatamente dopo cioè dà l'opportunità all'avversario di esprimersi di provare ad affondare e poi nel momento in cui l'avversario sente di essere in controllo del match diciamo lui aumenta il ritmo e riesce ad andare sempre un passo avanti mi ha molto impressionato quella sequenza che termina con un colpo girato totalmente inaspettato da parte sua dove praticamente prende il tempo ed aggiunge un colpo in più alle solite combinazioni e comincia a comandare l'incontro praticamente perché dalla terza ripresa io non l'ho letto 49-46 come l'avevano letto i giudici io l'ho letto 48-47 avevo la sensazione che le prime due riprese le avesse vinte Sandhagen cambia poco poi in termini del risultato finale però è interessante nel comprendere quanto effettivamente Jan sia eccezionale da questo punto di vista ci riesce a controllare il match nelle prime due riprese pur perdendole alle volte non è molto importante ai fini del fatto che lui poi riesca praticamente sempre in tutti i suoi incontri l'ha fatto a prendere il ritmo e se non ammettere che ha poi i suoi avversari comunque a dominarli da tutti i punti di vista questa cosa fa molto impressione anche perché è granitico riesce a subire un sacco di colpi senza mai accusarli davvero cioè aveva una differenza da lungo e d'altezza con Sandhagen che era davvero impressionante Sandhagen che è andato a segno anche con delle ginocchiate saltate con dei colpi molto spettacolari e precisi molto potenti ma Jan ha sempre avanzato ed ha imposto poi il suo stile ha anche combattuto con guardia Southpaw per la durata di alcune riprese è stato molto interessante vedere come riusciva a controllare il match anche con una guardia che non è propriamente sua quindi è un fighter davvero eccezionale un passo avanti generalmente ai suoi avversari adesso probabilmente vuole andare anzi sicuramente vuole andare a riprendersi quello che è già stato suo perso in diciamo una situazione sicuramente strana ma legittima quindi adesso deve dimostrare di poter battere ancora una volta al Jamey Sterling stavolta in maniera totalmente pulita in eccequibile e sì non deve commettere più quell'error raccio fondamentalmente perché di fatto anche nella contesa contro Sterling bene o male stava portando avanti quello che poteva essere il suo match ideale insomma quello che hai ricordato appena tu insomma un match in cui il primo round il primo e due round perché in effetti devo confessare che anch'io il secondo round sono stato un po' indeciso eventualmente se assegnarlo a Jan o a Sandagen effettivamente la tua valutazione non è del tutto campata per aria però insomma l'abbiamo visto e l'abbiamo rivisto ancora come Jan si possa permettere eventualmente di concedere idealmente un round o due all'interno ovviamente di un complessivo di cinque perché insomma ha estrema fiducia e ne ha ben donde di avercene nei propri mezzi nella propria insomma capacità di aggiustamenti nel corso dell'incontro per poi emergere con rinnovata abilità e ovviamente anche rinnovata energia e cardio perché ovviamente insomma sicuramente non gli fa difetto anche i mezzi fisici ancora prima che tecnici e tattici per poter emergere in queste sfide alla lunga distanza è stato così nella sua insomma fase di ascesa non solo appunto in UFC ma in precedenza anche nella sua esperienza complessiva nelle Mixed Martial Arts e lo sta confermando insomma sta confermando tali caratteristiche anche nel suo adesso regno interim però bene o male di fatto a netto di quello che è successo con Sterling viene naturale pensare che Jan sia fondamentalmente in questo momento il fighter numero uno il vero e proprio campione non incoronato ufficialmente ma il campione di fatto di questa categoria di peso e appunto nel 2022 vedremo insomma prima o poi la possibilità di rivederlo con tutte le cinture insomma di vederlo definitivamente con la cintura intime la cintura indisputed attorno alla sua vita per diventare appunto quello che fondamentalmente in questo momento è cioè il vero e proprio campione della categoria Bantanweight chi sempre proveniente dalla Russia aspira a diventare campione è Islan Makachev che a lightweight ha stravinto quello che poteva essere un insidioso test per così dire un po' in extremis contro De Nuker vittoria per Kimura per sottomissione dopo 2 minuti e 25 secondi nel primo round questa vittoria per Makachev rappresenta la 9 di fila 9 vittorie di fila che pareggiano quelle dell'attuale campione di categoria Charles Oliveira per più lunga strisce di vittoria nella divisione lightweight in UFC Makachev è diventato con questo successo il 21esimo fighter nella storia della UFC a ottenere vittorie per sottomissione con 4 tecniche differenti infatti oltre alla Kimura di sabato scorso ha vinto anche per Riennekechok Arbar e Amtari Engol e con questo successo ha inflitto a De Nuker la sua prima sconfitta per sottomissione dal marzo del 2012 e quindi insomma anche da questo punto di vista ha impreziosito a livello di curiosità statistiche questa sua vittoria a Giovanni assolutamente netta praticamente non c'è stato non c'è stato match primo leg kick di De Nuker insomma primo a fondo di De Nuker completamente neutralizzato per portare il match a terra controllo asfissiante della posizione prima in mezzaguardia poi passaggio abbastanza inesorabile in side control e applicazione di una Kimura che è una tecnica che viene tentata più volte insomma che si vede spesso tentata nel mondo delle mixed martial arts e in particolare insomma questi altissimi livelli competizioni UFC ma in realtà sono pochi quelli che poi riescono pienamente ad applicarla e non è un caso che ci sia riuscito uno come Makashev che insomma continua con questo suo percorso e con questa sua vittoria ad alimentare il mito del nuovo Khabib e in effetti se continua a vincere in questa maniera e anche con questa insomma abbiamo ricordato una certa varietà anche di soluzioni soprattutto nell'ambito delle prese sottomissione Giovanni sarà banale sarà quello che vuoi però come non si fa a tenere vivo il mito del nuovo Khabib in relazione a Makashev e beh 20 vittorie uno solo sconfitto una caduta in UFC arrivato direttamente in UFC per Makashev ma poi saranno adesso non lo so una decina di vittorie lui che ha praticamente in UFC un fighter eccezionale un fighter che ha dimostrato di appartenere comunque al settore elitario dello sport Danuker accetta il match con poco preavviso è vero ma Makashev non ha mai dato l'impressione che Uker potesse tornare indietro da quella stabilizzazione da quella chimura che poi con la gamba che passa oltre la testa di Uker diventa assolutamente inesorabile come hai detto tu una prestazione davvero eccezionale davvero incredibile da parte di Makashev che come Khabib si pare migliorare ad ogni uscita e adesso che cosa dire di lui non si può più negare si deve assolutamente mandarlo in una title eliminator per capire se può essere lui il prossimo sfidante del vincitore del match tra e si a questo punto si può smettere di cinci schiare da questo punto di vista Makashev si è mai proiettato ampiamente verso la top 5 insomma comunque ottenere questo calibro di sfida all'interno di lightweight e poi magari appunto il suo percorso si interromperà chi lo sa ha ricordato che tu è stato anche sconfitto in passato quindi non è necessariamente una macchina infallibile di per sé in assoluto però in questo momento appare tale merita sicuramente un test ancora più provante per vedere se l'hype è reale da questo punto di vista trapassando un attimo comunque affrontando brevemente le altre sfide della main card diciamo relativamente mendennie di nota da un certo punto di vista la vittoria di Alex Volkov a heavyweight contro Marcin Tibur è successo abbastanza scolastico per decisioni unanime tra 27 attenta 27 29 28 considerazione simile che si può fare anche per la vittoria di Magomed Ankalev contro Volko a nos demir a light heavyweight altra decisione unanime che ha premiato il primo per cartellini 30-27 30-27 29-28 più interessante visto che parlavamo di hype reale o meno da testare non si può che passare direttamente a Kazma Cimaev che al suo ritorno nello sport nella categoria welterweight ha travolto non ci sono altri termini che si possono utilizzare se non sinonimo di questo Lin Jingliang sconfiggendolo per technical submission per Rienek dopo 3 minuti e 16 secondi nel primo round 4 stoppage in UFC per Cimaev che rappresenta la seconda striscia di successi per finalizzazione lunga dopo quella di Francis Gannu che in questo momento nel roster UFC è quello che ha ottenuto più stoppage di fila in UFC con 5 successi per finalizzazione Cimaev nelle sue 4 apparizioni in UFC ha assorbito un solo colpo significativo andando a segno invece con 112 colpi significativi quindi una differenza di 112 a 1 254 a 2 se si comprende diciamo il complessivo dei colpi significativi e non significativi che hanno caratteristinto le sue sfide e tutte e 4 le sue finalizzazioni sono state premiate dalla performance of the night particolarità che lo fa inserire in un club molto molto esclusivo nella storia della UFC visto che sono pochi che i fighter che hanno tenuto tale che hanno fatto registrare tale record tra questi ci sono Tyson Griffin Thomas Almeida Lando Vannata e Justin Gaethy però a differenza di molti di questi nomi Giovanni Cimaev sembra veramente un contender in the making è stato ancora più evidente con questo test che doveva particolarmente essere probante anche a livello di ranking se vogliamo prendere in considerazione questo aspetto e Cimaev ha fatto nuovamente Cimaev preso completamente Lin Jingliang e trattato come una bambola di pezza e assolutamente dominato a bordo gabbia senza lasciare davvero alcuno scampo anche qui parlavamo di inesorabilità delle finalizzazioni Jingliang è sembrato veramente affondare nelle sabbie mobili nel momento in cui Cimaev ha preso pienamente controllo della situazione al tappeto Giovanni è anche qui inutile ci incischiare se non lo possiamo trattare subito come un number one contender però insomma Cimaev deve essere testato ai piani alti nella parte alta della top 15 assolutamente è la principale conclusione che ci porta a fare dopo gli UFC 267 ma di pure nella parte principale della top 10 secondo me Cimaev a questo punto ma anche per le statistiche che lo accompagnano per il giusto sfruttamento di uno star power che si è venuto a creare molto presto secondo me è un match dall'incontro titolato cioè qui si parla che sicuramente dovrà affrontare un top 5 dopo la vittoria sul numero 11 di categorie però ci siamo molto molto vicini cioè se Cimaev prende un top 5 e gli fa fare la stessa fine che ha fatto fare a Li Jingliang il prossimo match titolato è sicuramente suo non lascia molti dubbi non lascia molte domande al caso nessuno è durato più di lì dei suoi avversari e lì è durato 3 minuti e 16 subendo soltanto tutti gli altri hanno fatto la stessa identica fine io credo che a questo punto la title eliminator sia praticamente obbligatoria sì sì assolutamente Cimaev veramente tenendo conto anche insomma per quanto tutta la situazione sia stata un po' difficile da decifrare data appunto la distanza il periodo anche un po' particolare di pandemia che non rendeva facile diciamo la diffusione di notizie però insomma emergevano sono emersi in questo periodo di stop di lontananza dallo sport notizie anche abbastanza inquietanti sul suo stato di salute sulla sua battaglia col covid insomma sono emersi prima di questo match dei dubbi legittimi sulle sue condizioni fisiche e beh insomma diciamo che tutti questi dubbi li ha spazzati via esattamente come ha spazzato via Li Jingliang chiaramente ci possono essere dei fighter con determinate caratteristiche a welterweight nei piani alti ovviamente i welterweight che possono impegnare Cimaev ma il punto diciamo non è tanto poi questo ma è il fatto che insomma Cimaev questo tipo di sfide veramente molto provanti che possono effettivamente confermare all'interno dell'ottagono se Cimaev è un futuro contender o meno Cimaev se le merità insomma veramente non c'è più tempo per avere dubbi sulla legittimità dell'ambizione di Cimaev nel voler tentare l'assalto ai piani più alti della welterweight division e ci aspettiamo insomma che nel 2022 avrà modo di ottenere il tipo di sfida che sembra che vuole lui stesso e che assolutamente tutti insomma pensano che si possa meritare soprattutto alla luce di quello che ci ha fatto vedere IFC 267 breve scarrellata di considerazioni commenti sulla preliminary card preliminary card anche piuttosto lunga per numero di match ma non per questo noiosa o comunque poco interessante sicuramente ha fatto discutere quanto è avvenuto nel match tra Eliseo Zaleskis Dos Santos e Benoit Sandeni non tanto per lo sviluppo della contesa in sé o per il risultato ma per il comportamento dell'arbitro Vyacheslav Kiselev un arbitro che per chi segue abitualmente insomma le promotion russa anche abbastanza noto forse per la prima volta comunque non è la prima volta che si è visto questi livelli insomma arbitrare a livello UFC diciamo che il suo debutto è stato assolutamente insomma indimenticabile ma nel senso negativo del termine visto che ne ha combinato di cotte e di crude non ha voluto interrompere il match al secondo round quando Benoit Sandeni sembrava veramente in procinto di poter capitolare che ha permesso a Zaleskis di scamparla per una ditata non facendo intervenire il medico per almeno vedere se Benoit Sandeni come ammetteva lo stesso Benoit Sandeni non riusciva a vedere bene dall'occhio insomma non ha neanche interpellato il medico per poter fare i controlli dopo questo tipo di situazioni insomma in generale veramente ha gestito molto male la contesa appunto tale che avrebbe dovuto arbitrare un'altra sfida all'interno della serata ed è stato assolutamente subito rimosso tra le polemiche generali dei commentatori non solo è stato subito rimosso dal quadro arbitri di questo evento quindi insomma è stata un po' una finestra un po' grottesca all'interno di questa card molto assortita molto ben assortita per matchup lo è stato nella main card lo è stato anche nei predims con tra i punti più degni di nota sicuramente la finalizzazione di Lauren Murphy contro Marco Anamircani con questa ginocchiata d'incontro ginocchiata destra d'incontro su un tentativo di takedown da parte degli americani che appunto spento definitivamente le luci a quest'ultimo dopo 14 secondi nel secondo round sicuramente anche se non è stato fermato con premiato col bonus di performance of the night che sono andati a texair a cima però avrebbe forse meritato anch'esso un bonus per la spettacolarità il colpo andato a segno colpo assolutamente legittimo e ben impostato da parte di Lauren Murphy sfida godibile da vedere è stata sicuramente la contesa tra Zubaira Tugo e Riccardo Ramos a Federweight con la vittoria del primo per decisione unanime 29-28 29-28 29-28 buone prestazioni di Amanda Ribas contro Vino la cendi roba vittoria da Ribas per decisione unanime sempre con i cartellini di 29-28 29-28 29-28 successo un pochino più combattuto sofferto per Duraev contro Duraev contro Kopilov con decisione unanime di 30-27 29-27 29-27 andato in favore dello stesso Duraev mentre hanno vinto prima del tempo con merito Mikhail Oleg Sejciuk contro Shamil Gazmatov per TKO dopo 3 minuti 31 secondi nel primo round light heavyweight metà middleweight Ander Petroski il talento più promettente dell'ultima stagione e direi forse in generale delle ultime stagioni negli ultimi anni di Ultimate Fighter vittorioso su Wu Yauzong per Amtari Angolchok dopo 4 minuti 46 secondi nel terzo round per completare 4 risultati anche la sfida flyweight tra Tajir Ulabekov e Alan Nassimento vittoria del primo per Split 28-29 29-28 29-28 quindi insomma tanta qualità ovviamente nella main card ma anche nei prelims come detto appunto i primi performance of the night andate a Texarec ma il fight of the night andato a invece alla sfida tra Piotr Jan e Corey Sandagen direi a questo punto che possiamo passare a un'anteprima di un 268 che insomma le stesse considerazioni che abbiamo fatto la scorsa settimana in sede di anteprima di 267 si possono copiare e incollare anche per 268 sarebbe una card che per nomi proposti per matchup proposti meriterebbe un podcast intero però purtroppo non possiamo dedicarci tutto questo tempo e quindi torneremo risponderiamo subito al nostro format della domanda secca per ogni singolo matchup e ovviamente partiamo dal main event la rivincita per il titolo welterweight UFC tra il campione in carica Camaro Ousmane e lo sfidante Colby Covington Giovanni Colby Covington si è rivelato in questo momento nel regno che appare undisputed in tutti i sensi di Ousmane quello che se non altro ci è andato un pochino più vicino ecco comunque quello che in qualche maniera è impegnato di più Ousmane ti chiedo Covington cosa può fare cosa è in grado di fare o cosa dovrebbe fare per poter in qualche maniera colmare quelli che possono essere i margini rispetto a Ousmane che sono emessi nella prima sfida pregare indietro ma io credo in realtà che Colby Covington sia un fighter di primissimo livello sia quello che probabilmente anzi che sicuramente almeno in termini di punteggio dei singoli round aveva impegnato di più Ousmane poi non ha retto il TKO secondo me è sacrosanto nel loro match poi questa determinazione che ha nel mentire e nel negare l'evidenza praticamente è quasi stucchevole anche Bretto Kamoto gli ha fatto vedere uno spezzone di video tra un round e l'altro quando lui dice penso di essermi rotto la mandibola e poi risponde lì come se non avesse visto niente e noi sono sicuro non fosse rotta gli ha detto sono sicuro non era rotto una roba del genere cioè fa quasi tenerezza arrivato in certo punto però è un fighter di primo ordine assolutamente la minaccia più concreta al regno di Kamaru Usman in attesa di questo Kamzat-Cima e di vedere se può arrivare lì nei piani alti titolati Covington è dotato di un ottimo stand-up però alla lunga a me è sembrato che Usman sapesse prendergli le misure con grande maestria e affondare i colpi definitivi e secondo me è una cosa che può fare anche nel match che andremo a vedere Covington è dotato di un ottimo wrestling e di un ottimo stand-up però secondo me non ci vuole andare in fase di grappling con Usman perché sai che lì il campione nigeriano è molto molto pericoloso tant'è vero che alcuni dei colpi migliori li ha messi al corpo in clinch nel loro primo match quindi io vedo favorito ancora una volta Kamaru Usman e non perché Colby non sia forte ma al contrario perché probabilmente Usman è la versione più forte di Colby Covington Covington è un Usman un po' meno potente ecco magari meno resistente ai colpi però è un fighter di tutto rispetto ed è il numero due di categoria senza discussione in questo momento io comunque continuo a dare favorito 70-30 Kamaru Usman domanda su aggiustamenti margini da colmare che si può ripetere anche in forma leggermente diversa o riadattata per così dire al Comenement che vede in scena un altro rematch in questo caso per la Women's nel contesto della Women's Throwweight Division UFC con il rematch tra Rosanna Mayunas attuale campionessa e l'ex campionessa che la stessa Nam Mayunas ha battuto Vali Zhang in quali aspetti in quale particolare del combattimento e presumo in particolare nell'ambito degli scambi in piedi dello striking in piedi Vali Zhang può operare quell'aggiustamento che può permetterle di essere quantomeno più competitiva di quanto possa essere fatto contro Nam Mayunas nel primo incontro e eventualmente riuscire a riprendersi la cintura contro l'attuale campionessa di categoria Nell'illusione dei colpi sicuramente e nella capacità di comprendere la pericolosità delle angolazioni che ricerca Rosanna Mayunas dallo stand-up Zhang è una striker straordinaria secondo me per certi versi e in certe situazioni probabilmente è anche migliore di Nam Mayunas non lo è stata sicuramente nel loro primo match ha subito quel colpo a freddo ma è stata proprio caduta vittima di un capolavoro stilistico secondo me di Rosanna Mayunas che ha usato l'unica angolazione possibile che lasciava la guardia di Wiley Zhang e l'ha accolta impreparata lei poi si è lamentata ma anche qui lo stoppage è giusto è assolutamente giusto quindi anche da quel punto di vista Zhang deve utilizzare tutta la sua concentrazione e deve secondo me tutto sarà ruotato poi alla fine di questo match sulle sue avversarie in training camp fondamentalmente sulle mulare lo stile di Rosanna Mayunas che è più unico che raro poi in realtà quindi sarà un match difficile il più difficile della carriera di Wiley Zhang perché proprio lei che sembrava una campionessa così dominante è stata sconfitta in quella maniera quasi quasi beffarda da parte della Mayunas sono sicuro avrà sicuramente fatto delle correzioni all'impostazione che terrà all'inizio del match e non vedo l'ora di vedere questo match fra le due questo rimatch perché Wiley Zhang adesso sa cosa deve aspettarsi sa che non può abbassare la guardia con Mayunas perché rischia quello di vedere un match finito come il primo la sfida che precederà le contese titolate insomma non sarà un match titolato anch'esso ma in termini di attesa di hype e di spettacolo che promette insomma si si avvicina molto a Light Heavyweight parliamo di Justin Gaeth contro Michael Chandler sarebbero veramente tantissime domande da fare su questo matchup uno dei sicuramente dei più attesi di questa card cosa può essere decisivo diciamo tra quello che può da un lato forse essere la caratteristica principale di Gaeth nel volume di colpi protetti a segno rispetto a quella che può essere invece la precisione sul colpo singolo sulla potenza sul colpo singolo di Chandler quale può essere dell'elemento a meno appunto di fighter che ci possano sorprendere rispetto al solito rispetto a questi standard l'elemento decisivo che può far spostare il piatto della bilancia definitivamente da una parte o dall'altra io credo che l'ultima versione di Justin Gaeth sia molto più pericolosa della sua prima versione Chandler è un fighter forte ma non è asfissiante non è Khabib non è un power wrestler dalla capacità eccezionale come quella di Khabib è un fighter d'elite anche lui sicuramente non più nel fiore degli anni e abbiamo visto che la sua mandibola non è più perfetta così come non lo è quella di Justin Gaeth però Gaeth ha capito i momenti in cui deve affondare i momenti in cui deve indietreggiare quando per Chandler arrivano i momenti di indietreggiare quasi sempre lui è o troppo sbilanciato o in fuga dal lato sbagliato e si fa incrociare dai colpi dei suoi avversari io credo che in questo momento storico arrivi meglio al match Justin Gaeth penso che il suo volume e comunque la sua non indifferente potenza potranno fare la differenza in un match contro Michael Chandler che probabilmente punterà come hai detto tu al colpo singolo e magari al cambio di livello se ne avrà occasione ma vedo comunque Justin Gaeth favorito in questo momento Nel resto della main card a completare la main card le sfide tra Shane Burgos e Billy Quarantiglio a featherweight e a bantaweight in apertura Frankie Edgar contro Marlon Vera Giovanni qual è la sfida che ti interessa di più delle due? Beh ad oggi ti dovrei dire Burgos contro Quarantiglio però per una sorta di gusto personale perché sto seguendo con attenzione forse la carriera anche di Cito Vera che mi piace molto e per l'affetto che provo nei confronti di Frankie Edgar ti dico quest'ultimo però sono tutti e due dei match molto esplosivi che possono conservare davvero delle perle al loro interno quindi tutti e due dei match assolutamente da vedere che rispettano la grande qualità di questa main card E ultima domanda diciamo dando una scrossata ai nomi della preliminary ti cito questi fighter Alex Ferreira Edwin Shabazian Ian Gary e Melsic Bagdazarian Quali di questi fighter emergenti prospect come li vogliamo definire ti interessa di più da vedere le immagini che possono fare il percorso più lungo e pieno di successo in UFC Ma sono curioso per forza di cose per motivi abbastanza ovvi dell'esordio di Alexandro Pereira voglio vedere se nonostante ormai un'età non più verdissima sia capace di mantenere lo stesso livello che manteneva nella kick nelle MMA è lui è lui quello che mi intriga di più sì 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 assolutamente questo è sicuramente un nome che ci può stare a me personalmente il nome che ispira diciamo da un certo punto di vista di più può essere quello di Ian Gary se non altro perché appunto ne abbiamo visto il percorso anche giusto fino a poco tempo fa in Cage Warriors un altro di questi nomi che passano da Cage Warriors e a differenza forse di alcuni altri questo insomma Gary sembra effettivamente quello uno di quelli destinati ad avere una carriera un pochino più lunga diciamo che non si arrenerà facilmente alle prime difficoltà rispetto a quelle di altri fighter passati dalla promotion britannica però intanzitutto le aspettative devono essere poi confermate dai fatti ci sarà anche anche Bruno Sousa che è un allievo di Lioto Magida ad esempio in card che combatterà contro Melsic Bagdasarian sono due due prospect molto interessanti sicuramente è interessante pure questo di match perché comunque ci presenterà sicuramente un prospect molto interessante fra i due anche perché hanno rispettivamente 25-29 anni quindi categoria dei feather un match sicuramente da vedere secondo me eh sì 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 veramente oltre ai match principali ci sono anche appunto questi vari nomi emergenti prospect appunto come li vogliamo assolutamente chiamare non cambia la sostanza veramente tanti match veramente molto interessanti in un'altra card numerata assolutamente da non perdere e che insomma commenteremo con quanto possibile dovizia di dettagli nella prossima puntata del podcast ricordando giusto anche proprio in chiusura in extremis che nel weekend ci sarà anche il ritorno di Bellator con Bellator 270 questa volta in scena da Dublino con main event Patrick Pitbull contro Peter Quilly Patchy Mix James Gallagher come e la presenza in main card di Fabian Edwards contro Robert Fonseca e Daniel Weichel contro Pedro Carvaio Fedor White sempre in main card direi che questa puntata possiamo chiudere ricordando in chiusura brevemente i contatti pagina Facebook e profili Instagram e Twitter e il gruppo Telegram linkato nelle note dell'episodio il gruppo Telegram che come il canale Twitch ricordando appunto anche l'appuntamento settimanale con Twitch cambiano forma visto che non sarà più riferimento sia al canale Twitch sia al canale Telegram gruppo Telegram esclusivamente MMA Talks ma sarà di riferimento al progetto MMA Tricks scritto appunto come The Matrix ma con le MMA con le lettere appunto acronime di questo sport la officializzazione definitiva di questo progetto avviato su Twitch appunto con gli amici di Fatima Arziali che diciamo definitivamente diventa una entità unica se anche se ovviamente strettamente legata a noi e a fatti marziali avrà finalmente la sua definitiva identità quindi le prossime dirette e il gruppo Telegram per l'appunto diventeranno definitivamente di riferimento per questo progetto e direi che con questo possiamo chiudere passare saluti da questa parte del microfono di saluto Stefano ciao a tutti e da quest'altra Giovanni ciao a tutti e al prossimo episodio con MMA Talks Podcast